Renzi a Napoli, il sud rinasce con il turismo, il premier stamane è tornato in città, prima la visita al museo di Capodimonte, poi l'intervento a Pietrarsa, abbraccio con De Luca, il governo mette un miliardo per valorizzare i beni culturali. Dimessa dall'ospedale muore di meningite, i medici l'avevano curata per una banale influenza, la vittima è una giovane mamma di 25 anni di Santa Anastasia, lascia una bimba di 18 mesi, diagnosi è arrivata troppo tardi. Ospedale Ruggi, un testimone incastra il primario, la sorella di un paziente che poi è morto denuncia, brigante mi chiese i soldi per operare subito mio fratello, ricostruito dagli inquirenti il giro di bonifici sull'asse Salerno, Pisa, Stati Uniti. E' ufficiale, si vota domenica 5 giugno, tutti i capoluoghi di provincia campani al voto tranne Avellino, turno di ballottaggio il 19, meno di un mese di tempo per definire liste e alleanze. A Napoli 9 candidati a sindaco. Attentato al market, paura a Benevento, una bombola di gas è stata incendiata davanti all'Eurospin, si segue la pista dell'atto intimidatorio. A San Giorgio, la Molara, i banditi fanno saltare il postamat con l'esplosivo. Latina KO, la salernitana rivede la salvezza, Coda firma la vittoria che riapre le speranze per i Granata nella corsa per restare in B. Nell'Avellino, dopo la sconfitta contro il Pescara, il presidente Taccone esclude il ritorno di Tesser e manda la squadra in ritiro. Erano i titoli di stasera, ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel News. Il Sud può riscattarsi solo con il turismo, lo ha detto il premier Matteo Renzi, stamane a Portici, chiudendo al Museo di Pietrarsa la due giorni di Stati Generali del Turismo. Il governo è pronto a investire un miliardo per i beni culturali. Sentiamo. Il premier Renzi è tornato a Napoli per una giornata dedicata ai beni culturali, prima la visita al Parco e al Museo di Capodimonte con il ministro Franceschini, poi l'intervento al Museo di Pietrarsa dove il premier ha chiuso gli stati generali dedicati al turismo. Se sei di Napoli e non vai al Museo di Capodimonte devi sentirti in colpa, ha detto Renzi. Posso dire che se vogliamo fare un'operazione sul turismo intanto ci vogliono i cartelli che quando arrivi a Napoli ti spiegano che quella realtà lì è la realtà tra le più belle che c'è. E la cartellonistica non può essere semplicemente un cartello fatto così, non può essere soltanto un cartello, deve essere un racconto, un pezzo del racconto, deve essere l'inizio di un racconto. Allora che cambio noi il logo di Ennit? Il modo con il quale noi raccontiamo il nostro paese può essere tutto uguale anziché affidato alla fantasia e all'estero dei singoli nei singoli musei? Per il premier la gestione culturale deve diventare patrimonio nazionale. Il governo è pronto a fare la sua parte mettendo sul tavolo un miliardo di euro per i beni culturali. Noi mettiamo per la prima volta un miliardo di euro sui beni culturali perché è allucinante che ci siano delle opere dai grandi uffizi a Brera che tutte le volte devono andare a chiedere il permesso per poter finire i lavori che cambiano, che sono da 25 anni nelle mani delle procedure burocratiche che poi naturalmente cambiano. Noi il nostro miliardo perché i beni culturali siano rimessi a posto, se ne è can debut, lo mettiamo. Renzi al suo arrivo a Napoli ha abbracciato il governatore De Luca, tornerà in Campania proprio a Salerno dove il 25 aprile parteciperà all'inaugurazione della stazione marittima. Il premier è sicuro che il sud può vincere la scommessa del turismo. Noi scommetteremo sul turismo soltanto se riusciremo a raccontare agli italiani che il turismo non è semplicemente un business. Rovesciamo il ragionamento. Ah ma il turismo è un'industria? Sì, è un'industria. Ma prima ancora di essere… in passato si pensava che fosse soltanto una roba da detti ai lavori. Si è detto no, è un'industria. Sì, è un'industria. Però è qualcosa di più. È il modo per tornare ad essere innamorati di un paese che nel mondo è stato famoso per la sua storia. E che io vorrei che tutti insieme rendessimo famoso per il proprio futuro. In bocca al lupo a tutti noi. La cronaca adesso era stata curata come una banale influenza. In realtà era una meningite fulminante. La vittima è una giovane mamma di 25 anni di Santa Anastasia in provincia di Napoli. Struncata dalla meningite a 25 anni, la vita spezzata ieri dopo un'odissea di ricoveri ospedalieri è quella di Ilaria Montilli, napoletana di origine trapiantata a Santa Anastasia da quando era diventata mamma della piccola che oggi ha un anno e mezzo. Il decesso è arrivato dopo un lungo calvario iniziato lo scorso 14 marzo. Il papà di Ilaria, notando un pallore eccessivo e sospetto sul volto della sua figlia, aveva deciso di accompagnarla all'ospedale e lo ritomare temendo che la figlia avesse una forte influenza. Da lì per Ilaria sarebbe iniziato una serie di ricoveri in diversi ospedali cittadini alla ricerca di una corretta diagnosi. Diagnosi che sarebbe arrivata però troppo tardi. La forma di meningite che ha colpito la giovane mamma le ha provocato di fatti un edema alla testa che ha poi portato alla sua morte. Ora tutti si chiedono se questa tragedia poteva essere evitata. Se i medici avessero diagnosticato in tempo la meningite senza scambiarla per una banale influenza, Ilaria Montilli sarebbe ancora viva. E si è in attesa di capire se la procura aprirà un'indagine in merito o se magari i familiari sporgeranno denuncia. Ma forse la verità non arriverà mai. Quel che si sa è che resta solo la perdita di una ragazza che aveva ancora tutta la vita da davanti. I napoletani coinvolti nell'inchiesta Panama Papers. Quelle società le abbiamo aperte ma non le abbiamo mai utilizzate, dicono Salvatore Bizzarro, Silvio Sacchi e Fabio Frassinè. Sono i tre napoletani appunto che hanno fatto ricorso ai servizi dalla Mossack Fonseca. E i loro nomi sono finiti tra i primi cento pubblicati dall'Espresso. Insieme a quelli di altri due campani, gli imprenditori Ercole Astarita e Gianfranco Morgano, quest'ultimo uno dei proprietari dell'hotel Quisisana di Capri, un 5 stelle di lusso e vetrina per le celebrità di tutto il mondo. Tutti e tre gli imprenditori sovracitati hanno inaugurato società nel paradiso fiscale, ma tutti e tre sostengono di averlo fatto per futili motivi. Andiamo a Salerno, un giro di mazzette per saltare le lunghe liste d'attesa a neurochirurgia e garantirsi un'operazione rapida. Oltre i riscontri investigativi e il giro di bonifici sull'asse Salerno-Pisa-Stati Uniti, anche il racconto dei testimoni incastrerebbe la presunta cricca dell'ospedale di Salerno. Sentiamo. 2.000 euro consegnati in una busta e dopo l'intervento soldi raccolti tra i familiari di un paziente Angelo Di Giacomo per saltare la lista d'attesa e finire subito in sala operatoria con il primario Luciano Brigante e altri sanitari. Una tassa sulla vita per rimuovere la massa tumorale del cervello e provare a comprare la precedenza sotto i ferri all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. È il racconto agghiacciante della sorella di uno dei pazienti che avrebbero pagato per scavalcare altri malati riportato oggi dal quotidiano La Repubblica. Mazzette consegnate dopo l'intervento che Brigante avrebbe chiesto per velocizzare le procedure e che hanno portato i PM ad ipotizzare il reato di concussione con il camice bianco irpino ai domiciliari. Nella stessa indagine è agli arresti anche il docente universitario di Pisa Gaetano Liberti che ieri ha respinto tutte le accuse nell'interrogatorio di garanzia la caposale Annarita Iannicelli mentre è indagato a piede libero il luminare giapponese Takanori Fukushima. Una cricca nell'ipotesi accusatoria della procura che dovrà passare al vaglio del tribunale che aveva realizzato un vero e proprio sistema. Oltre al racconto dei testimoni ci sarebbero infatti anche alcune registrazioni di medici e infermieri del reparto di neurochirurgia dell'ospedale salernitano nei quali si ricostruisce il presunto giro di soldi sborsati per saltare la lista d'attesa e portare i pazienti in sala operatoria subito. Materiale al vaglio dei carabinieri del comando provinciale che stanno passando a setaccio le cartelle cliniche e ascoltando le testimonianze di medici, infermieri e familiari. Un tariffario che andava da 1.500 a 20.000 euro quando in sala operatoria era presente il camice bianco del sollevante una tassa sulla disperazione delle famiglie disposte a tutto pur di salvare i propri cari. Il 70% dei controllori di volo ha aderito oggi allo sciopero proclamato per 4 ore dalle 10 alle 14 dal sindacato autonomo Unica e dall'AMPCAT. Questa è la stima diffusa dai sindacati secondo i quali sono oltre 300 i voli cancellati su tutto il territorio nazionale. Complessivamente 21 i voli tra partenze e arrivi cancellati all'aeroporto Capodichino di Napoli. spiegano i vertici del sindacato Gianluca Labigi e Stefano Francucci. Con questo sciopero chiediamo di trovare una soluzione al problema pensionistico soluzione che non può essere ulteriormente procrastinata. Parte ufficialmente la sfida elettorale per le elezioni amministrative. I cittadini andranno al voto il 5 giugno con gli eventuali ballottaggi il 19. Meno di un mese per definire candidature e alleanze. Ora la macchina elettorale in Campania può mettersi in moto. Il ministro Alfano ha firmato il decreto fissando la data delle elezioni amministrative. Si andrà al voto il 5 giugno con gli eventuali ballottaggi previsti per il 19. Le liste dovranno essere presentate tra il 6 e il 7 maggio. Si parte dunque verso una sfida elettorale che in Campania interesserà Napoli dove chi vince sarà eletto anche sindaco della città metropolitana e altri tre capoluoghi di provincia Caserta, Salerno e Benevento. Solo Avellino resterà fuori da questo turno elettorale che prevede il voto in realtà importanti che superano i 15.000 abitanti come Castellammare di Stabbia, Battipaglia, Aversa, Marcianise, Santa Maria Capoavetere e Capua. Meno di un mese dunque per definire il quadro dei candidati e le alleanze. Dal punto di vista politico in Napoli il test che assume un valore che va oltre i confini regionali. Al momento sono nove gli sfidanti. Il PD che ha disinnescato per ora la mina Bassolino ha puntato tutto sulla vincitrice delle primarie Valeria Valente per sfidare l'uscente Luigi De Magistris. Diviso il centrodestra con Gianni Lettieri in campo già da tempo, Marcello Taglialatela per Fratelli d'Italia, Enzo Rivellini per Napoli Capitale e infine Raffaele Bruno per la fiamma Tricolore. I 5 Stelle hanno lanciato Matteo Brambilla, chiudono l'elenco degli aspiranti sindaci, Nunzia Amura del Partito Comunista Operaia della Lenia e Luigi Mercogliano del Popolo della Famiglia. Si vota anche a Benevento per le amministrative. Continua il dialogo all'interno del PD dopo la pace ritrovata nella riunione di due giorni fa. Intanto domani nel capoluogo Sannita arriva l'ex ministro Gianfranco Rotondi per presentare una lista in sostegno di Clemente Mastella. Ma il 5 giugno, oltre al capoluogo, si andrà al voto anche in altri 20 comuni del Sannio. Il punto della situazione con Andrea Caruso. La ritrovata concordia tra le correnti del PD Beneventano va ora testata sui terreni di programma coalizione e campagna elettorale. Raffaele Del Vecchio non è rimasto con le mani in mano durante il mese di gelo, ma i primi due appuntamenti della sua campagna avevano visto parallelamente ai sette temi di governo anche l'incognita del sostegno dei lealisti, i quali ora vogliono dire la loro tanto sulla coalizione, una richiesta su tutte e quella di strappare il vice sindaco, quanto sul programma elettorale. Nessuna ufficiale reazione o commento c'è stato a Ceppaloni sulle vicende dei Dem. Qualche candidato consigliere Mastelliano vede un tallone d'Achille nella riappacificazione perché, integrando anche gli uomini più vicini e fedeli al sindaco, Del Vecchio avrà ancora più difficoltà a far passare la propria candidatura come elemento di novità. Domenica mattina intanto Mastella ospiterà Benevento Gianfranco Rotondi, dall'ex ministro è giunto l'endorsement che verrà concretizzato in una lista col simbolo di rivoluzione cristiana. Il Movimento 5 Stelle focalizza la propria attenzione sul referendum del 17 aprile, mentre sul versante amministrativo Nicola Sguera smentisce presunti attriti con la candidata sindaco Mariana Farese. Ma non c'è solo il capoluogo, nel sanno in totale il 5 giugno si andrà a rinnovo di altre 20 amministrazioni comunali. I campanili più importanti, almeno per popolazione residente, saranno quelli di Airola e San Giorgio del Sannio, dove il PD dovrà cercare la riconferma rispettivamente di Michele Napoletano e Claudio Ricci, quest'ultimo anche numero uno della provincia. Al voto anche San Nicola Manfredi, feudo del coordinatore provinciale di Forza Italia, Fernando Enrico. La Croce Rossa nel mirino dei Vandali è accaduto a Castel San Giorgio, nel Salernitano, dove un'ambulanza parcheggiata all'interno del cortile della scuola Torquato Tasso è stata gravemente danneggiata. Secondo una prima ricostruzione, i teppisti avrebbero agito ieri pomeriggio, poco dopo che il mezzo era tornato da un servizio di dialisi. Sì, vetri in frantumi e seri danni alle apparecchiature elettromedicali dell'ambulanza. Il danno si aggira intorno ai 5.000 euro. Non contenti, i vandali si sono accaniti anche contro lo scuolabus parcheggiato nelle vicinanze dell'autoambulanza della Croce Rossa. Bombola di gas incendiata dinanzi ad una saracinesca del supermercato Eurospin a Benevento. Contenuti i danni, nessun problema per le persone, ma nel capoluogo Sannita cresce l'allarme per le intimidazioni. Enzo Spiezia Come due mesi fa a Limatola, allora anche la benzina. Stavolta soltanto una bombola di gas. L'hanno aperta ed hanno scatenato le fiamme. Limitati per fortuna i danni, annerita la serranda. Poca cosa rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere con l'esplosione del contenitore piazzato dinanzi ad una saracinesca del supermercato Eurospin a Benevento. Via Planco, ad un passo dalla stazione Appia, il teatro del nuovo attentato contro un'attività commerciale. L'ultima a finire nel mirino ha sede in un piazzale contornato da palazzi. Sono stati dipendenti, nel prendere servizio intorno alle 6, a scoprire ciò che era stato organizzato. Polizia e pompieri sono accorsi sul posto. La zona è stata messa in sicurezza. Resta l'allarme per l'ennesima intimidazione, che per le modalità ricorda quella subita a febbraio in provincia da un altro supermercato. Le indagini dovranno stabilire se dietro l'obiettivo di disseminare la paura ci siano finalità estorsive o altre motivazioni. Si allunga la lista degli episodi, numerosi quelli rimbalzati all'onore delle cronache nel sannio. Segnali di un attivismo della criminalità che preoccupa l'opinione pubblica, non da oggi e non solo per gli attentati. Il Comune di Avellino presenta in Regione Campania i nuovi progetti Più Europa. Pronta anche la Convenzione per il risanamento ambientale del Rio San Francesco. Un occhio ai progetti Più Europa da chiudere e un altro a quelli da programmare nella nuova finestra di finanziamento 2014-2020. Il Comune di Avellino, dopo aver incassato il Via Libera dalla Regione sui 12 milioni di euro necessari per completare Piazza Libertà, il tunnel, il mercatone, la metro leggera, è pronto ad aprire 5 nuovi cantieri e spendere gli ultimi 5 milioni di euro di fondi dell'agenda comunitaria. Bonatti, restyling del Corso Vittorio Emanuele e il collegamento viario da Contrada Archia a Via Fontanatetta. In più, lavori di corredo alla riqualificazione di Piazza Libertà che riguarderanno il rifacimento dei marciapiedi a Via Due Principati, Via Matteotti, Via Partenio e Via De Santis. Inoltre, Palazzo di Città ha siglato con Palazzo Santa Lucia un accordo per la bonifica del torrente Rio San Francesco. 4 milioni e 500 mila euro per risanare le acque. La Convenzione è già pronta, spiega l'assessore all'ambiente Augusto Penna, e il prossimo passo sarà quello di approvarla in giunta comunale. Dopodiché seguirà l'iter burocratico a Napoli per poi accedere ai fondi ministeriali. Riterremo il prefetto moralmente responsabile di eventuali incidenti alle fonderie Pisano. Così Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita, che accusa il rappresentante di governo. Manca la certificazione antincendio, mentre il valore delle polveri sottili è sempre altissimo. Giovanni Battista Lanzilli. Un durissimo atto d'accusa contro il prefetto di Salerno con la richiesta di una nuova convocazione al Palazzo di Governo e la denuncia di prescrizioni non rispettate in materia ambientale che metterebbero a rischio la salute dei lavoratori e dei residenti. Quindi il Comitato Salute e Vita è tornato ad occuparsi delle fonderie Pisano. Vogliamo sottolineare che dal 1 gennaio al 1 aprile del 2016 ci sono state 15 giornate di sforamento del PM10, quelle polveri sottili che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede come causa principale del cancro. Per rimostranze del Comitato però non c'è chiaramente solo l'inquinamento atmosferico. Assolutamente no. La regione, per dirla in breve, nonostante poi ha fatto riaprire la fabbrica, poteva fare dei controlli ulteriori solo a motore acceso. Quando sono stati accesi i motori hanno scoperto che l'aia data nel 2012 non è adeguata alla via e non è adeguata all'attuale situazione delle normative esistenti. Oltre a questo troviamo un'altra cosa gravissima. I Vigili del Fuoco hanno scritto nel mese di marzo alla regione Campania dicendo guardate ad oggi, al 21 marzo 2016, la fonderia Pisano è sprovvista di autorizzazione per quanto riguarda la certificazione antincendio. Il prefetto di Salerno non ci incontra né risponde alle pecche che mandiamo e ci dice perché non ci vuole incontrare, perché non incontra le motivate preoccupazioni dei cittadini e riteniamo responsabile e morale se succede qualcosa di grave in quel territorio. Un anno fa la strage all'interno del Tribunale di Milano dove fu assassinato il giudice Fernando Ciampi originario del comune di Fontana Rosa in Irpinia. Questa mattina la presenza del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti l'intitolazione di una strada nel comune irpino al magistrato ucciso. Vediamo. Un magistrato rigoroso, integerrimo, grande lavoratore, umide servitore dello Stato è stato definito così ad un anno esatto dalla sua tragica morte durante la strage di Milano il giudice di Fontana Rosa, Fernando Ciampi. Una cerimonia solenne per non dimenticare. E' una strada accanto all'abitazione di famiglia e ai luoghi di infanzia che da oggi porta il suo nome via Fernando Ciampi. La commozione nelle parole del figlio Mario. Si prova grande commozione ma anche grande onore, grande riconoscenza nei confronti dell'autorità, nei confronti di tutta la cittadinanza di Fontana Rosa. è un ricordo, è un ricordo che rimarrà per sempre e quindi è un ricordo per noi e spero che sia un ricordo anche per tutti gli abitanti di Fontana Rosa, la cittadinanza e i giovani. Mi piace vedere come sono stati coinvolti i giovani in questa iniziativa perché poi sono valori che si tramandano e si tramandano a loro. Attesissimo l'intervento del procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo Franco Roberti. Credo che di fronte a queste sfide, a questi pericoli, a queste minacce dobbiamo reagire tutti con molto coraggio. C'è nella verità e nel coraggio una forma di reazione e di ricerca della libertà alla quale non possiamo rinunziare. Piazza Plebiscito a Napoli si trasforma in un enorme palcoscenico in cui si è esibito il coro polifonico più grande della storia della musica. Dobbiamo vedere adesso delle immagini. Oggi nella piazza simbolo della città si è svolta la Piazza Incantata che ha visto esibirsi un coro costituito da 12.846 studenti di cui 6.000 campani arrivati da 17 regioni italiane. Il progetto ideato e diretto da Renato Parascandalo e dal maestro Sergio Siminovic è promosso e sostenuto dal Comune di Napoli, dalla Regione Campania, dal Ministero dell'Istruzione, dal Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica, dalla RAI e dal Conservatorio di San Pietro a Maiella. Una manifestazione che ha ricevuto anche il riconoscimento dal capo dello Stato Sergio Mattarella che ha inviato una targa come segno di apprezzamento. Torniamo a Salerno. Il problema delle strutture fatiscenti o inesistenti per chi pratica sport è stato al centro dell'incontro di questa mattina al Comune per Palazzo di Città era presente l'assessore Savastano. Una ricognizione delle strutture presenti sul territorio ma anche e soprattutto un grido d'aiuto. L'Axi di Salerno ha chiesto al Comune un impegno per garantire spazi adeguati nei quali praticare le discipline sportive sul territorio cittadino. Oltre al Presidente Venosi era presente anche l'assessore Savastano. Le strutture e gli impianti che sono pochi e qualcuno è anche fatiscente, è da ristrutturare. Soldi non ce ne sono come sappiamo tutti, però si potrebbe fare qualcosa con l'apporto dei privati magari sfruttando quegli spazi liberi e dare la possibilità anche a dei privati di realizzare delle palestre prefabbricate che costano poco e quindi sono accessibili un po' a tutti. In questo modo risolveremo un po' i problemi delle palestre scolastiche. Molte sono fatiscente e poi c'è il problema dei dirigenti scolastiche che frappongono ostacoli. Io sono qui in particolare a ragionare su quello che è l'attività che facciamo per l'integrazione attraverso lo sport delle persone non solo con disabilità ma di tante associazioni che lavorano nei quartieri della città di Salerno. È chiaro che la cosa più importante che sarà posta stamattina è quella di sviluppare possibilmente l'impiantistica sportiva nella città di Salerno che c'è carenza sicuramente. Ma c'è un progetto di rilancio importante che è stato presentato qualche mese fa nella nostra città riguardo alla cittadella dello sport che sarà realizzata nelle vicinanze dello Stadio Alecchi. Adesso apriamo la pagina dello sport. Il Napoli domani in campo al San Paolo contro il Verona in piena emergenza. Mancheranno Reina, Higuain, Coulibaly e Mertens e si aspettano buone notizie da Milan-Juventus di stasera a San Siro. Il servizio. Napoli-Verona non è mai partita banale per la grande rivalità tra le due tifoserie e perché quest'anno agli azzurri servono più che mai tre punti per tenere accese le residue Speranze Scudetto. Ma il Napoli deve anche guardarsi le spalle dall'assalto della Roma al secondo posto e allora Sarri richiama tutti alla massima concentrazione. Anche perché ci saranno parecchie assenze. A cominciare da Reina tra i pali toccherà ancora Gabriel. Mancheranno anche gli squalificati Higuain, Coulibaly e Mertens. Il Pipita sarà sostituito da Manolo Gabbiadini in attacco con Galleon e Insigne, confermati i soliti tre di centrocampo. Nel Verona Toni non è al 100% ma dovrebbe comunque rientrare tra i convocati. Del Neri si presenta al San Paolo con uno spregiudicato 4-2-3-1 e si gioca le ultime fish sul tavolo della salvezza. Ecco le probabili formazioni. Napoli con Gabriel, Isai, Albiol, Chiriches e Goulam, Allan, Giorginio, Amsic, Haleon, Gabbiadini e Insigne. Nel Verona gollini tra i pali. Pisano, Bianchetti, Samir e Albertazzi a comporre la linea difensiva. Marrone e Ionita, la diga di centrocampo. Scholek, Gomez e Rebic ad agire dietro l'unica punta. Pazzini. E a San Siro dopo quasi dieci minuti di gioco. Milan e Juventus ancora sullo 0-0. Andiamo in Serie B. La Salernitana batte il Latina in rimonta e rivede la salvezza. Decisivo il calcio di rigore di Massimo Coda nei minuti finali. Gli highlights. La prima di otto finali per centrare la salvezza passa dalla Rechi. Salernitana Latina conta solo vincere per la squadra di Merichidi. Partono bene Granata. Qui il tentativo è di Ceccarelli che si spegne alto sulla traversa. Poi però al primo affondo in Latina passa. Apertura di Schiattarella a sinistra per il diagonale di Calderoni. Battuto Terracciano. 1-0 Latina all'undicesimo. Al trentunesimo però i padroni di casa trovano il momentaneo 1-1. Gran fendente dalla lunga distanza di Moses Auger. Una cannonata su cui non può nulla Uicani. Passano solo due minuti e i pontini tornano in vantaggio. Caparbio Schiattarella nel recuperare questo pallone servito all'indietro al rimorchio nel cuore dell'aria di rigore. Arriva Scaglia. È 2-1 Latina. Ancora altalena di emozioni perché al trentanovesimo arriva il 2-2. Donnarumma prova la conclusione a giro. È fortunato perché trova la deviazione decisiva di Brusca Gin. Nel secondo tempo entra Zito per Iconomidis. Qui subito la Salernitana spaventa Uicani con questa conclusione dal limite dell'aria che si spegne di poco alta sulla traversa. Nel finale grande chance per Donnarumma che va via ad un paio d'avversari ma poi non trova la coordinazione giusta per inquadrare lo specchio della porta. Poi arriviamo all'episodio che deciderà la partita. Questo contatto poco chiaro nel replay tra Esposito e Donnarumma. Abisso vede il calcio di rigore. Ammunizione per Esposito che poi prosegue nelle proteste e si becca anche il secondo giallo e l'espulsione. Sul dischetto per un rigore di vitale importanza nella rincorsa alla Salvezza va Massimo Coda. Freddissimo batte Uicani e raccoglie l'abbraccio della Sud. Finisce così la Salernitana non perde il primo treno Salvezza. Scavalca il Livorno in classifica e adesso i play-out sono solo ad un punto. Lavellino, Pestumo, Venticano. I biancoverdi reduci dalla netta sconfitta casalinga contro il Pescara. Si preparano a scegliere la sede del ritiro in vista della trasferta a Perugia dove bisognerà riflettere sugli evidenti problemi dei lupi da oggi a meno 6 dalla zona play-out. Marco Festa. Tre finali in otto giorni per tenere debita a ristanza la zona play-out su cui il vantaggio dopo le gare del pomeriggio ammonta soli 6 punti. La prima sabato prossima al Curi contro il Perugia che avrà tre giorni in meno di riposo dato che scenderà in campo lunedì alle 20.30 a Rigamonti contro il Brescia. Lavellino, raduce da 1.3 casalingo contro il rimaneggiato Pescara, non può più permettersi di scherzare col fuoco per evitare di rendere il finale di stagione già ampiamente deludente. Un autentico incubo. Sei gol subiti nelle ultime due partite, un gol realizzato nelle ultime quattro, due sconfitte consecutive, tre negli ultimi 360 minuti di campionato. I numeri parlano chiaro, così come l'ennesimo approccio tutt'altro che irresistibile alla gara, palesato dai lupi, inesistenti a Latina, inconcludenti contro gli Adriatici. Si riparte dall'unica nota positiva della sfida contro l'undici allenato da Massimo Oddo. Il quarto d'ora messo insieme, tra gol di Castaldo e occasioni per D'Angelo e Mokulu, in cui il lupo è riuscito a dare cenni di vita, si riparte soprattutto in ritiro, Pestum o Venticano, per isolarsi da un contesto ambientale, comprensibilmente amareggiato per la spaventosa involuzione, palesata dalla squadra. La permanenza in categoria è tutt'altro che un traguardo di scarso valore, ma innanzitutto va centrata e la sensazione è che la pazienza sia finita, principalmente per l'atteggiamento rinuncetario ed appagato del gruppo, piuttosto che per l'addio anticipato alla lotta per l'accesso agli spareggi per la promozione. Il presidente Taccone ha fatto scudo alla squadra manifestando una condivisibile preoccupazione per la mancanza di abitudine a lottare per non retrocedere di un club che ha sofferto nulla nelle ultime stagioni, mentre il tecnico Marcolin ha indicato nelle pressioni dei supporters uno dei principali fattori di ansia per il futuro, oltre che destabilizzanti al punto di influire nel secondo cappo in tre gare della sua gestione. In tanta confusione resta una verità di fondo, il primo passo per riuscire dalla spirale dei problemi è probabilmente ammettere di averli, soltanto dopo sarà il momento di capire come risolverli. Sabato amaro per le campane di Lega Pro, la casertana perde al pinto contro il Foggia, condannata da una doppietta di Iemmello, non è bastato il pari del momentaneo 1-1 di Giannone, perde anche la paganese a Catanzaro, domani la Juve Stabbia, lunedì il Benevento. Pari pesantissimo al Via del Mare, solo 0-0 per il Lecce contro l'Akragas, i salentini di mister Braia non superano il muro siciliano, tante occasioni per i giallorossi con uno stop anche sul limite di porta, e rischio immenso nel finale sul contropiede di Cristaldi, fermato da Bleve in angolo. Un punto per il Lecce, distante tre punti dalla capolista Benevento, che lunedì sera sarà di scena a Cosenza per un match che può risultare davvero spartiacque. A meno tre dalla vetta si porta anche il Foggia, che passa al pinto, sconfitta per i falchetti di mister tedesco e K.O. di misura anche per la paganese. Al Ceravolo risulta decisiva la rete di Olivera al 63esimo, grandissima conclusione al volo da fuori area su cui Marruocco non può nulla. Vittoria importante per il Catanzaro, che allunga sulla zona play-out. K.O. che non modifica gli scenari in casa paganese, vicinissima alla salvezza. Siamo al basket in chiusura, ultime ore, poi sarà palla due di un match decisivo per il terzo posto, la presentazione di Sidigas Avellino, Vanoli Cremona, domani al Del Mauro. Mezzogiorno di fuoco. La guerra per il terzo posto troverà nella sfida di domani la battaglia decisiva. Ultimi dettagli, poi la parola passerà al campo. Tutto in gioco tra Sidigas Avellino e Vanoli Cremona, con l'obiettivo terzo posto, oggi occupato dai Lombardi, dell'ex Cesare Pancotto. Rilanciarsi dal K.O. di Torino, Avellino dovrà ritrovare i giusti automatismi tra attacco e difesa in 40 minuti di fuoco al pala del Mauro. Sarà il rush finale di regular season dal gusto play-off. Già con Torino, l'intensità del gioco e l'indice di scontro fisico si è alzato notevolmente e contro Cremona questo dato sarà certamente confermato. Inizia la fase decisiva con gli ultimi quattro turni di campionato che determineranno griglia play-off e salvezza. Tutto in palio su ogni campo e Avellino andrà a caccia del suo obiettivo, la terza posizione. Ci giochiamo tanto, ma non tutto. Coach Sacripanti presenta così la sfida contro la Vanoli in cui la Scandone guarda al successo ma possibilmente anche a ribaltare il meno sei dall'andata. Gruppo al completo per Avellino, una defezione fino al termine della stagione per Cremona. Luca Vitali si sottoporrà ad un intervento chirurgico nella giornata di lunedì con tempi di recupero stimati in sette settimane. Stagione finita quindi per il play dei Lombardi ormai lontano dal campo da due mesi. Pancotto potrà contare su un gruppo solido con il miglior sesto uomo McGee e con lo spauracchio Nicola Dragovic ex di turno e capace di prove da assoluto leader come nell'ultimo match vinto da Cremona contro Cantù. Ultimi preparativi poi la palla a due domani alle 12 al Pala del Mauro sarà mezzogiorno di fuoco. Sono le 21.03 agli orologi di 8 Channel è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie a Michele Urciuolo in regia io vi auguro una buona serata arrivederci.